SIC Supermoto Day, una giornata di festa, tantissimi protagonisti anche della Superbike ed è qui con noi Vittorio Iannuzzo che è venuto a omaggiare Marco Simoncelli sappiamo che quella comparsata di Marco a Imola ha colpito in positivo tutti voi tu che ricordo hai di Marco? Beh, un ricordo sicuramente veloce, molto veloce è arrivato nell'ultima gara del mondiale Superbike a Imola con tanta pressione addosso da parte dei media perché tutti aspettavano che lui facesse cose veramente importanti però nessuno poteva immaginare che poteva stare lì per lottare per la vittoria io l'ho visto in pista subito dai primi giri, al secondo giro era già velocissimo, era impossibile stargli dietro quindi mi ha veramente impressionato poi lo stesso anche nel paddock, si è ambientato subito con tutti quanti ed era veramente un ragazzo di cuore era il SIC insomma il cuore ce l'hai messo anche tu però a venire qua perché noi sappiamo che tu non ami tantissimo il motard che ti sei fatto anche male qualche anno fa però per quest'oggi ci sei sì sì, non sono un motardista ho visto che comunque i quiri mi hanno detto che girano sia Valentino, Biaggi e altri piloti erano velocissimi quindi farò un po' di fatica però per Marco questo ed altro poi è una gara di beneficenza saremo tutti qua, ci divertiamo è bello anche incontrare tutti gli altri piloti, giornalisti è bello dai, è un'ottima cosa per ricordare Marco e anche per ritrovarci noi piloti tutti quanti insieme e poi l'anno prossimo tu li ritroverai molti di loro con una BMW nel mondiale Superbike sì sì sì, da poco ho firmato il contratto con la mia nuova squadra correrò col Team Grillini in Superbike, una BMW speriamo di poter far bene l'anno prossimo la Superbike sarà difficile sono quasi tutte squadre ufficiali noi siamo una squadra privata però sono convinto che potremo fare bene perché la moto, la BMW non l'ho ancora provata ma tutti mi dicono che è una gran bella moto quindi sono curioso di vedere questa cosa a gennaio e sono tutti curiosi anche di vedere te in pista con i grandissimi delle due ruote quindi verranno certamente a seguirti alla pista del Sagittario a Latina un saluto a tutti da Liberti ciao ciao, un saluto da Vittorio di Renuzzo ciao